Contro il Latina, la Virtus Francavilla non va oltre lo 0-0 dopo 95 minuti all'attacco per provare a vendicare il KO contro il Giuliano. Emozioni subito dopo 40 secondi con la grande occasione per i padroni di casa. Patierno fa correre Maiorino, il quale entra in area e mette un buon pallone al centro che Mastropietro e Patierno, però, non riescono a spedire in rete. Al sedicesimo, altro pericolo per la porta difesa da Cardinali. Murillo ci prova direttamente su punizione, ma la sfera deviata si stampa sulla traversa. Nei minuti successivi, Biancazzurri pericolosi con una serie di palloni velenosi nell'area di rigore nerazzurra, disinnescati dalla retroguardia Pontina. Al 43esimo, Patierno mette giù un gran pallone e serve orizzontalmente Maiorino, il cui tiro è centrale e debole. Nella ripresa succede poco e nulla e al sessantesimo, per dare verve e brillantezza in avanti, Calabro inserisce Cisco ed Ecuban al posto di Mastropietro e Maiorino. Nell'ultimo quarto d'ora, in campo anche Di Marco, all'ottantesimo, un lampo di Cisco che punta l'avversario sulla destra e va al traversone verso il secondo palo. Patierno di Tessa prova a sorprendere il controtempo Cardinali, ma il pallone termina sul fondo. A cinque minuti dal termine, primo vero brivido per la porta difesa da Avella. Calcio di punizione deviato con la testa da San Nipoli, che sfiora il gol della Beffa. Non succede più nulla, la Virtus Francavilla prosegue nel momento nero sottoporta e si consola con un punto che muove almeno la classifica. Alla fine, applausi alla squadra biancazzurra e cori nei confronti del presidente Magri dopo le dichiarazioni rilasciate in settimana.